Il digitale, i nuovi format partecipativi, quali strade intraprendere e quale creatività sguinzagliare? Il punto qui è promuovere la domanda, non è solo una questione di offerta di servizi amministrativi evoluti, quando parliamo di agenda digitale e di innovazione in questo paese dobbiamo promuovere la domanda, dobbiamo partire secondo me dalla nuova generazione, intercettarla e dare una forma a questa partecipazione, inventarli questi format, abbiamo tante tecnologie che ci danno tante risposte, dobbiamo inventare le domande per poter utilizzare tutte queste tecnologie e su questo vanno anche i social network che ce l'hanno dimostrato, è lì che si gioca la partita, dobbiamo inventare i nostri social network, i nostri di chi? Delle comunità che possono essere sia di territorio che tematiche e parlando di territorio penso di un format come quello del Geoblog, il Geoblog quando l'abbiamo inventato a Torino per le Olimpiadi Invernali non c'era ancora Google Map, poi è arrivato nell'estate del 2005 e siamo rimasti da sindrome di Stendhal, bellissimo, però il format l'abbiamo inventato noi, non solo ma per tutto un anno si poteva scrivere dentro la mappa, cosa che Google Map per almeno un anno e mezzo non ha fatto, cosa abbiamo fatto? Abbiamo scritto le storie dentro le geografie, che cosa significa? Che tu dentro una mappa parli di ciò che ci fai in quel territorio, ecco questo è un modo per far capire che possono essere inventati non solo dei linguaggi ma dei comportamenti creativi, la tecnologia o meglio ancora l'innovazione è nel valore d'uso, non è nella tecnologia, non è nella configurazione, non è nell'applicazione in sé, e nell'utilizzo che ne fai, questo è l'innovazione e su questo c'è da fare un grande lavoro, nonostante tutti i digital divide, tutte le carenze di infrastrutture e tutti i ritardi culturali che la classe dirigente vive in sé e riscarica sul nostro paese, non se ne può più del ritardo prodotto da intellettuali che non sopportano l'idea di sentirsi inadeguati. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.